Sono stati definiti dall'ufficio scolastico regionale gli ambiti territoriali che serviranno a stabilire le sedi di servizio e di trasferimento per il personale docente della scuola neoassunto. Quattro gli ambiti individuati per la provincia di Foggia, a cui si aggiungono i tre ambiti per la BAT, uno dei quali, quello che comprende Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, verrà gestito dall'ufficio scolastico foggiano. L'ambito 1 comprende 26 comuni, quelli della fascia ovest della provincia, includendo da Chieuti, Lesina, San Severo, Apricena, Troia, Lucera e Monti Dauni settentrionali, con una popolazione scolastica di oltre 28 mila alunni. L'ambito Foggia 2, invece, comprende 13 comuni, quelli del Gargano, più Mattinata e Manfredonia, con la presenza di oltre 26 mila alunni. L'ambito Foggia 3 è stato circoscritto alla sola città di Foggia, che ha una popolazione scolastica di 24 mila 700 alunni. Infine, il quarto ambito è quello che comprende il sud-sud-est della provincia, dai cinque reali siti a Cerignola con Candela e i Monti Dauni meridionali fino a Zapponeta. L'individuazione degli ambiti è uno step fondamentale della riforma Renzi della Buona Scuola, che è propedeutico alla formazione delle reti scolastiche. Intanto, gli ambiti serviranno per i prossimi trasferimenti, soprattutto quelli relativi alla mobilità interprovinciale.